Benvenuti a Genova. Di questa città Francesco Petrarca scrisse addirittura superba per uomini e mura. Noi dell'Associazione Culturale Genova World, io sono Umberto Curti, in stretta collaborazione con il Comune di Genova abbiamo dato vita al progetto Outfood, superba per cibi e cultura. Abbiamo cioè inteso portare gli oggetti del cibo, del cucinare quotidiano dentro alle grandi strutture museali e culturali della città. Un nuovo modo per viaggiare dentro Genova e ancora una volta la conferma che l'enogastronomia è uno straordinario vettore di conoscenza e di contatti. Benvenuti a Genova. Cari amici, oggi il progetto Outfood a cura del Comune di Genova in collaborazione con l'Associazione Genova World, ci conduce ospiti all'Istituto Mazziniano Museo del Risorgimento di Genova. Ancora una volta Outfood percorre un fil rouge di natura gastronomica perché forse non tutti sanno che le figure del musicista Paganini ma certamente anche di Giuseppe Mazzini e di Giuseppe Garibaldi sono legate da tre ricette che si associano ai loro nomi. Allora andiamo in ordine cronologico. Nel 1835 da Grenchen in Svizzera Giuseppe Mazzini invia una ricetta alla madre che si conclude con un divertente e poi ridete nella quale rendi conta una proprio una torta piuttosto golosa, una torta dolce di mandorle. Vado rapidamente a leggerla. Eccovi la ricetta di quel dolce che vorrei faceste e provaste perché a me piace assai. Traduco alla meglio perché di cose di cucina non mi intendo, ciò che mi dice una delle ragazze in cattivo francese. Pelate e pestate fine fine tre once di mandorle, tre once di zucchero fregato prima ad un limone, pestato finissimo. Prendete il succo del limone, poi due gialli d'uovo, mescolate tutto questo e muovete, sbattete il tutto per alcuni minuti, poi sbattete i due bianchi d'uovo quanto potete. A neige, dice essa, come la neve, cacciate anche questi nel gran miscuglio, tornate a muovere, ungete una tourtiere, cioè un testo da torte con butirro fresco, coprite il fondo della tourtiere con pasta sfogliata, ponete il miscuglio sul testo, su questo strato di pasta sfogliata, spargete sopra dello zucchero fino e fate cuocere il tutto al forno. Avete inteso? Dio lo sa, mi direte poi i risultati. Intanto ridete, quindi un finale anche ironico. Questa ricetta è del 1835. Nel 1839, a sua volta, Niccolò Paganini confeziona una ricetta di golosi ravioli alla genovese col succo, quindi con il sugo di carne. Abbiamo già dedicato una puntata di Outfoot a questo tema e ovviamente i più accaniti melomani possono andare a vedere il cannone di Paganini conservato a Palazzo Tursi nel centro di Genova. Infine, last but not least, Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi, nel 1864, già celebre, viene invitato a Londra. È un viaggio molto ben organizzato, viaggia su un piroscafo, poi su un treno speciale e attraversa luoghi imbandierati col tricolore italiano. E naturalmente, giunto dove deve giungere, viene accolto, oltre che dal Prime Minister, anche da una folla festante. Garibaldi è unito, diciamo, a questa vicenda da una ricetta che viene appunto chiamata i biscotti di Garibaldi, che di fatto poi sono una sorta di impasto simil galletta, molto semplice, arricchito con dell'uvetta, e a cui viene conferita una forma vagamente ovale. Quindi, mi viene da dire, in un luogo chiave, come l'Istituto Mazziniano Museo del Risorgimento, per ricostruire un pezzo di storia gloriosa dell'Ottocento italiano, ancora una volta anche una riflessione gastronomica. Buona Genova a tutti, anche con il progetto Outfood.